Una sola è la città, il titolo del libro che presenterà questa sera nella sala del Consiglio Comunale di Fano. Di che cosa tratta il volume? Il volume è sostanzialmente una rivisitazione di quello che è stato l'impegno politico dei cattolici nella storia unitaria del nostro paese. Quindi c'è una prima parte che è storica, cerca di fare la sintesi di quello che è stato un lungo percorso storico che ha attraversato anche fasi diverse. E poi invece c'è una parte affidata a singoli temi, a singoli argomenti legati all'attualità, dall'economia all'ambiente, dalla sanità all'uelfare possibile. Il tutto per dire che è necessario che i credenti, insieme a tutti gli altri uomini e donne di buona volontà del nostro paese, si rimbocchino le maniche in questa fase delicata della transizione politica. Ecco appunto il credente, il suo impegno anche nella nostra città, quale può essere il suo significato? Ritengo che il primo impegno politico per i credenti sia quello di guardare la città dove abitano, le persone che hanno intorno, le case, gli immigrati, le povertà, le possibilità di sviluppo. Allora l'impegno politico non è qualcosa di astratto, che tocca solo a qualcuno nei grandi sistemi. Parte dalla città e vive nella città. E questo è anche il primo banco di prova per noi.